Un fondo per aiutare chi ha perso il lavoro e non riesce più a far fronte alle esigenze quotidiane. La proposta innovativa viene dalla Diocesi di Rimini ed è stata lanciata il ripomeriggio dal Vescovo Monsignor Francesco Lambiasi al termine dell'Assemblea Pastorale. Intanto verrà costituito un particolare conto corrente bancario attivato presso la Caritas Diocesana. Un comitato di garanti provenienti dalla società civile e dal mondo religioso verificherà e certificherà la più assoluta trasparenza delle operazioni, ma più in generale. Il progetto riguarda l'erogazione di incentivi economici per l'avvio di nuove attività o l'assunzione di disoccupati. Per la valutazione dei soggetti che beneficeranno del fondo verranno indetti degli appositi bandi. Una proposta rivolta a istituzioni pubbliche e private, imprese e comunità religiose, ma anche ai privati cittadini. La Diocesi, come detto, sarà la prima a scendere in campo finanziando il fondo con un importante contributo economico, ma poi toccherà agli altri fare la loro parte. Per quanto riguarda le assunzioni, queste saranno a tempo determinato, concluso il quale verrà richiesto all'azienda di verificare la possibilità di un proseguo autonomo del rapporto di lavoro. La proposta, ha spiegato Monsignor Lambiasi nella chiesa di Sant'Agostino, rappresenta un piccolo contributo all'emergenza occupazionale, ma contiene anche un'esplicita finalità educativa. Esprime infatti vicinanza e solidarietà concreta a chi vive situazioni drammatiche e richiama inoltre la comunità cristiana al fatto che, anche se poveri, disponiamo almeno dei due spiccioli della vedova del Vangelo.